buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv bene oggi è giovedì 22 agosto 2024 ci stiamo avvicinando piano piano alla fine del mese di agosto il mese dell'alta stagione turistica con un tempo che veramente per il turismo è stata la man santa così possiamo definirla perché ha creato il clima ideale per rendere più piacevole le vacanze ovviamente dopo magari si esagera perché il caldo la siccità ha creato tanti problemi che poi vediamo puntualmente nei giornali però insomma stamattina diamo un'occhiata a quello che evidenzia la cronaca passando però per prima come sempre attraverso l'almanacco del giorno ed eccolo il santo anzi l'avvenimento l'evento che si festeggia oggi oggi si festeggia la beata vergine maria col titolo di regina ebbene è una festa questa che è stata istituita nel 1954 da pio xiii papa pacelli era molto molto devoto alla madonna come poi lo sono stati anche gli altri papi in modo particolare papa giovanni paolo secondo ma questo è un modo per evidenziare l'importanza di maria madre di gesù a carattere universale insomma una coautrice della redenzione ed è veramente un titolo che pone pone maria nei più alti livelli appunto della venerazione della chiesa cattolica la beata vergine maria regina ed ora diciamo invece quale tempo che tempo farà nella giornata di oggi oggi ci saranno oggi ci saranno cieli sereni ci saranno cieli sereni e o poco nuvolosi su tutta la regione marche per l'intera giornata le temperature massime non supereranno i 34 gradi la minima si è attestata a 21 gradi i venti sulle coste espireranno da est così come nell'entroterra il mare leggermente mosso il sole è sorto alle 6 e 18 e tramonterà alle 20 02 e allora apriamo i giornali questa mattina a partire dal resto del carlino dove vediamo una notizia che possiamo anche definire curiosa ebbene si parla di sport ma di sport in modo propedeutico preparatorio perché ancora i campionati per quanto riguarda il fanocalcio non sono iniziati ebbene siamo allo stadio mancini si fanno gli allenamenti si fa anche la doccia dopo gli allenamenti ma nello stadio mancini la doccia non si può fare e i giocatori sono stati costretti a andarli a fare nella palestra dell'adriatica per cosa cosa è accaduto è accaduto che l'alma juventus con la vecchia gestione non ha pagato le bollette non le ha pagate per diverso tempo non solo le bollette del mese scorso ma anche quello del mese prima ancora ancora quello del prima ancora insomma veramente bantando un debito di oltre 8 mila euro e quindi cosa ha fatto l'ente gestore ha chiuso ha chiuso i rubinetti e quindi non c'è più acqua nelle docce dello stadio mancini si sono allenati allo stadio ma dunque i giocatori poi hanno dovuto fare le docce alla palestra di borgo metauro al mancini non viene l'acqua perché la società Alma Juventus non ha pagato le bollette per mesi e mesi appunto come vi ho anticipato il debito esattamente è di 8.641 euro con la prometeo l'azienda del gas perché poi ci vuole l'acqua calda e quindi ci vuole il gas per riscaldare l'acqua ma a questo punto non è stato fatto ebbene questo è uno dei casi eclatanti che dimostra come era necessario proprio chiudere la vicenda storica quindi anche gloriosa dell'Alma Juventus e ricominciare da capo con umiltà ma con tanta foglia di risorgere e di dare alla città una squadra che merita perché la terza città delle marche insomma non poteva così esprimere una società di calcio sono tanti tanti tifosi che sono ancora affezionati alle tradizioni calcistiche e fanesi ebbene non poteva rassegnarsi a fare sempre il fanalino di coda un altro articolo in prima pagina evidenzia il sindaco luca serfilippi in una veste inconsueta lui infatti ha indossato così a titolo emblematico la parananza ed è andato alla mensa sostegno quella mensa che sostituisce la mensa di san paterniano nelle mese di agosto quando san paterniano è chiusa per dare cibo da sporto ma anche cibo in mensa a coloro che non riescono veramente ad arrivare alla fine del mese affronta la vita con un sorriso questo è il messaggio che campeggia tra i tavoli della mensa sostengo s o s tengo insomma sostengo questo è un po' il titolo emblematico che è stato è una mensa della Caritas è una mensa che aiuta appunto i più fragili e i più deboli insomma coloro che si trovano in difficoltà e questo è un monico anche per il sindaco luca serfilippi che ieri accompagnato dalla giunta ha visitato il l'ex seminario regionale il centro pastorale del diocesano di via roma indossando appunto guanti e grebiule preparando i pasti e beh fa bene un po' a tutti i palli sono molto i volontari che lo fanno stabilmente questo preparano i cibi li confezionano e aiutano appunto coloro che si trovano in difficoltà ad accogliere tutti i giorni gli ospiti ci sono federica anna neica supportate da altri 18 volontari che si dedicano alle attività necessarie coordinate da don michele giardini direttore della caritas diocesana ed ora ancora ancora abusivi nel vittorio colonna ieri è stato trovato un altro ospite non gradito un nuovo blitz all'interno appunto di questo stabile di questo grande impianto che ancora non ha trovato una sua funzione una sua nuova funzione un suo uso e l'intervento è stato attuato in maniera congiunta dalla polizia locale dai carabinieri ed è avvenuto due giorni fa a seguito delle segnalazioni ricevute da parte dei residenti che sono molto vigili per quanto riguarda l'integrità di questo recinto che occupa quasi un intero isolato da via montegrappa a via gabrielli laggiù in fondo c'è solo dopo il complesso di santa di santa teresa delle moniche di santa teresa ma insomma la maggior parte dell'isolato è tutto occupato dal vittoria colonna il primo cittadino ha confermato che nel prossimo incontro del 3 settembre con il comitato dell'ordine pubblico che viene convocato stabilmente dalla prefettura ci sarà un incontro con la proprietà del vittorio colonna del vittoria colonna l'invimit la società del ministero dell'economia e delle finanze proprietaria appunto dell'immobile cioè cercherà di sollecitare appunto l'ente proprietario a trovare una funzione perché restando chiuso nonostante che porte e finestre siano state murate questo sarà sempre così occupato da qualcuno che è senza tetto e che cerca un rifugio parliamo ancora di piazza Andrea Costa piazza Andrea Costa è un argomento che viene dibattuto tra chi vorrebbe che fosse compiuto uno scavo intensivo fino a raggiungere le quote romane in profondità invece chi vorrebbe che il progetto originario è stato così iniziato dalla vecchia giunta e poi proseguito perché ricevuto in eredità dalla nuova proseguisse il cronoprogramma di cantiere quale cantiere appunto in piazza Andrea Costa è piazza Costa come largo Argentina intitola il resto del carlino non demorde il comitato del centro storico che lancia la proposta creiamo lì un parco archeologico trasformare piazza Andrea Costa in una piazza archeologica sul modello di largo di torre Argentina a Roma a Roma recentemente il largo di porta di piazza argentina è stato completamente restaurato reso visibile anche ai turisti a coloro che vogliono visitare le antichità romane sono state esposte anche cartelli indicative che esprimono la natura che descrivono la natura dei quattro templi repubblicani che sono stati riscontrati nel luogo che è poi vicinissimo alla curia di Pompeo dove è stato ucciso Cesare Giulio Cesare. Allora piazza Andrea Costa come largo di torre Argentina punto interrogativo beh possiamo vedere un anticipo di quello che sarà la risposta dell'amministrazione comunale che intende intende dare una sua risposta ufficiale nella conferenza stampa del venerdì ovvero quella di domani convocata dal sindaco Luca Serfilippi ma a parlare di questa questione oggi è l'assessore dei lavori pubblici Gianluca Ilari ebbene dice Gianluca Ilari quello è un cantiere non è una zona che viene utilizzata per uno scavo archeologico perché i lavori sono iniziati come un cantiere che ha la finalità di ristrutturare piazza Andrea Costa se la sovrintendenza decidesse di invece effettuare scavi archeologici trasformando l'identità formale di quel luogo allora il comune potrebbe collaborare ma la decisione spetta alla sovrintendenza la giunta si è riservata di rendere nota la sua posizione dicevo domani nella conferenza stampa debbo premettere ha detto l'assessore che l'area di cui si parla non è stata interessata prioritariamente secondo il progetto che abbiamo ereditato da uno scavo di esplorazione archeologica ma si tratta di un cantiere per la ristrutturazione dell'intera piazza una differenza sostanziale ha detto Ilari perché uno scavo di esplorazione archeologica lo progetta alla sovrintendenza e lo paga con i fondi suoi mentre l'allestimento di un cantiere per dare alla piazza un volto nuovo lo paga il comune ciò nonostante noi abbiamo dato ampia disponibilità a collaborare con la sovrintendenza in qualunque decisione avrebbe assunto quindi il comune è a completa disposizione dell'ente prioritario che deve preservare quello che è nel cuore della storia di ogni città di ogni luogo dove si trovano appunto le radici di una comunità e poi parliamo della fiera di San Bartolomeo oggi è il 22 agosto la fiera inizierà come sempre il 24 durerà tre giorni e si svolgerà lungo viale adriatico valicando anche il porto canale interessando anche il primo tratto di viale di lungomare Simonetti il sindaco attenzione alla segnaletica perché in occasione della fiera cambia anche la viabilità da sabato ho previste 170 bancarelle sono stati istituiti anche dei divieti di transito e di sosta sono 170 gli stalli previsti per l'edizione di quest'anno che verrà inaugurata sabato e andrà poi avanti fino a lunedì prossimo 131 quelli di cui godranno i detentori delle licenze mentre gli altri sono a disposizione degli ambulanti che si presenteranno il giorno stesso dell'apertura come già noto rispetto all'ultima edizione il format innovativo è quello che prevede anche un reparto di artigianato nei pressi del dopo il ponte del porto canale quindi nel primo tratto di lungomare Simonetti e poi insomma ci sarà tutta la kermesse della fiera di San Bartolomeo con l'abbigliamento, i casalinghi, i giochi insomma è tutto quello che una fiera può mostrare è anche una attrattiva di carattere turistico musica e poesia, teatro, i giovani per Seifest e questa è un'altra di quelle iniziative che si svolgono nel mese di agosto un mese che quest'anno è stato veramente pieno pieno di manifestazioni, pieno di eventi il Seifest giunge quest'anno alla quarta edizione inizia domani e sarà per due giorni inizia domani la quarta edizione del Seifest il festival concorso ideato da quattro ragazze Martina Broccoli, Veronica Orciari, Selene Kersicla e dalla cantante Clarissa Vichi ebbè è un'iniziativa che è stata ideata in un momento buio che insomma gravava su tutti noi quello della pandemia quando eravamo rintanati in casa era difficile uscire, era difficile colloquiare trovare un punto di riferimento con gli altri ebbene è stata un'iniziativa che ha riscosso subito il successo si tratta di una manifestazione che si svolge nella ex chiesa di San Francesco dove si danno appuntamento tanti giovani sono tantissimi giovani che partecipano quest'anno al Seifest sono 43, giungono da ogni regione d'Italia si esibiranno in musica, in poesia e anche in teatro è un concorso, è un concorso che verrà così determinato e deciso da una giuria in collaborazione con il pubblico che affluirà alla serata l'ingresso è libero però insomma comincerà alle 21 ma il consiglio è quello di prenotarsi un pochino prima insomma andare verso le 20.30 per trovare posto perché poi la chiesa di San Francesco non è molto molto capiente passiamo, torniamo anzi torniamo al resto del Carlino dove vediamo un articolo che riguarda non il Mancini come abbiamo visto prima ma siamo sempre in tema di sport e parliamo del Palace Allende Palace Allende che deve essere attrezzato per ospitare il prossimo campionato di volley Fano ha riacceso gli entusiasmi per quanto riguarda la squadra di volley che ha conquistato la serie superiore mille posti entro il 13 ottobre quanto ha promesso l'assessore allo sport Alberto Santorelli che ha annunciato l'ok alla spesa di 250.000 euro per l'adeguamento dell'impianto ma l'obiettivo vero l'abbiamo detto anche ieri è il nuovo palazzetto da 3.000 posti che dovrebbe essere realizzato nella zona di Chiaruccia stiamo lavorando anche per quello ha detto Santorelli e speriamo che almeno alla fine di questa tornata amministrativa che durerà 5 anni insomma qualcosa già si cominci a vedere intanto dovremo accontentarci ancora del Salvatore Allende magari con un aumento di posti ed un'attrezzatura migliore allora passiamo anche ad Urbino creiamo una comunità educante per la città lo ha detto Massimiliano Sirotti già presidente del Consiglio Comunale e ora è assessore alla istruzione il quale svela un pro quello che è il suo sogno quello che è il suo desiderio e sulla fusione Pascoli-Volponi le due scuole per ora non cambia nulla tra sedi e plessi quindi c'è uno status quo invece ha avuto un grande regresso un grande successo tutto quello che ha realizzato il professor Magnani il professor Magnani è un professore un docente universitario della Università di Urbino che opera anche a Fano ed è stato colui che ha dato un impulso notevole alla facoltà di biotecnologie agroindustriali ebbene lui si interessa anche di una malattia di quelle ereditarie o di quelle congenite insomma lì ancora non si sa quale la tassia teleangiectasia la malattia che annulla abbiamo avuto anche degli esempi purtroppo molto dolorosi nella nostra città la tecnologia per le ricerche arriva da Urbino a brevettarla è stato un gruppo dell'Ateneo Carlo Bo guidato da professor Magnani una terapia più efficace e sicura ha detto è possibile questo è riacceso un po' le speranze di tutte quelle famiglie che purtroppo combattono e sostengono l'onere di questa malattia ed ora abbiamo un articolo un pochino più sollevante insomma più leggero parliamo di quello che accade a Borgopace Borgopace è famosa non soltanto per la sua posizione ai piedi dell'Appennino una posizione deliziosa una cittadella molto molto bella aria buona gente gente verace ebbene a Borgopace c'è un prodotto tipico che è quello della patata rossa patata rossa che si festeggia con una sagra con una festa le ricchezze di Borgopace nascono tutte sottoterra dice il resto del Carlino ebbene prima c'era il carbone perché insomma Piobbico Borgopace era una terra di carbonai e poi è una terra anche di agricoltori dove si coltiva appunto la patata rossa la vediamo qui in una di queste fotografie l'annata sta andando bene la raccolta in corso per garantire il prodotto perfetto per la festa la patata rossa va raccolta non meccanicamente va raccolta a mano perché altrimenti si rovina la sua produzione è normata ad un disciplinare rigido che ne regolamenta tutto il ciclo ma poi ha un sapore che insomma le altre patate non hanno e quindi bisogna assaggiarla fatta in tutti i modi è lessa fritta cotta con i condimenti insomma come poi si può mangiare vediamo ancora una pagina di Pesaro sul resto del Carlino vediamo l'apertura è dedicata da quanto si propone fare il sindaco Biancani in merito anzi dopo quanto accaduto dopo il fortunale che ha causato diversi danni con allagamenti invasioni di fango ai piani terra delle abitazioni agli scantinati e appunto ai negozi e anche alle officine ebbene bisogna pulire bisogna avere cura di tutto l'impianto fognario l'ultima trovata di Biancani adottiamo tutti un tombino ha dichiarato io ho pulito quello davanti a casa mia ha detto Biancani che era ostruito da foglie e fango ora presenteremo una serie di interventi ma sarebbe bello che ognuno facesse la sua parte e non bisogna solo lamentarsi dicendo ma il comune non pulisce le fogne non pulisce i tombini i tombini si intasano se ognuno insomma si desse un pochino da fare davanti a casa sua e magari con un ferro sollevasse la grata ed esse una pulita di terra o di foglie insomma quello che intasa il tombino insomma l'acqua scorrerebbe e non procurerebbe danni e questo insomma è un avvertimento che si potrebbe ascoltare Pesaro si riprende il suo mare la pioggia ha fatto il miracolo scomparse le mucillagini si era detto si doveva arrivare un mescolamento delle acque e questo è arrivato in seguito al fortunale e le mucillagini sono scomparse la situazione è nettamente migliorata lo vediamo qui in questa fotografia dove tanti bagnanti allegramente possono fare il bagno in un'acqua pulita sia levante che apponente dopo la perturbazione le spiagge sono tornate affollate e tanta gente fa il bagno i bagnini non c'è nemmeno più la puzza ovviamente non ci sono più le mucillagini e quindi non c'è la puzza vediamo anche un ultimo articolo storni alla scuola Carducci ci siamo occupati anche ieri di questo argomento per il guano che sta lordando un po' tutto il circondario della scuola il sindaco gli assessori della Dora e Murgia sia gli uccelli sia i pini marittimi su cui si posano sono tutelati ma promettono interventi in tempo per le elezioni così dicono allora vediamo ancora il corriere adriatico per quanto riguarda un altro articolo di Fano si è tenuto un incontro a Metauriglia per formalizzare le richieste che saranno poi comunicate a Terna per quanto riguarda l'esecuzione delle opere compensative che dovranno essere realizzate anche in questa frazione oltre che a Carrara viabilità e arredo urbano le priorità per Metauriglia viabilità ovviamente per quanto riguarda la sicurezza e l'arredo urbano per dare dignità a questa frazione che ha mostrato una grande voglia di risorgere e di riqualificarsi a Mondolfo a Mondolfo parte la messa in sicurezza della Basilica di San Gervasio uno dei tesori della cultura e della cristianità del nostro territorio la Giunta ha deliberato i lavori per il drenaggio delle acque stanziando 100.000 euro San Gervasio è una delle San Gervasio in Bulgaria è una delle chiese paleocristiane è molto molto antica e sorta nei primi secoli del cristianesimo ed ora lì ad attestare appunto l'importanza del nostro territorio prima di chiudere voglio mostrarvi anche la pagina di Senigallia torna in centro la fiera campionaria l'artigianato si mette in mostra e dopo la fiera di San Bartolomeo a Fano segue subito quella di Senigallia la fiera si inaugura sabato dall'arredamento alla domotica 40 stand tra la Rocca e Piazza del Duca e con questo argomento terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre a domani alle 7 grazie per l'ascolto e a risentirci a domani a domani a domani Grazie.